Turchia Continuano senza sosta gli scavi nel sito archeologico di Gbeklitepe, il tempio più antico mai portato alla luce. Ci colleghiamo ora con il nostro inviato dalla provincia di Şanlıdülfar. La prima vittima di ogni guerra è la verità. Sei davvero disposto a metterti in gioco completamente? A perdere il sonno, la serenità, la reputazione? Tutti hanno un prezzo. Qual è il tuo? Quanto costa mantenere un segreto? West Virginia Quanto costa la stima Viva fonda Insecurity In Nina